Un sopralluogo per vedere i lavori di ripristino ultimati alla diga di Montedoglio. Lo ha effettuato la Commissione regionale sviluppo economico e rurale. I lavori sono ormai completati e permetteranno all'invaso di riacquistare la sua massima portata. Come Commissione volevamo toccare con mano, anche dopo il periodo che abbiamo vissuto di grande siccità, quello che è l'importanza sia dei lavori in corso, sia di tutto il sistema idrico, che questa zona della Toscana insieme all'Umbria rappresenta per l'agricoltura e anche per l'acqua potabile. Presidente Viti, la visita della Commissione regionale qui alla diga di Montedoglio, quale risvolto assume in questo momento? Sono stati ultimati i lavori e sono iniziati i lavori di collaudo del concio della diga che era collato nel 2010 e quindi l'ultimazione dei lavori consentirà poi al regime di poter reinvasare tutti i milioni di metri cubi previsti su Montedoglio. Quindi diciamo che è un dato significativo, non ci sono voluti 12 anni a ricostruirle, ma due e mezzo. In realtà poi per una decina di anni il cantiere era stato sequestrato, però insomma adesso siamo arrivati alla conclusione. Consigliere, alle nostre spalle il concio che è stato interamente ricostruito, però dietro c'è una storia, una storia nella quale lei stessa è stata parte attiva nel corso degli ultimi anni. Soddisfazione che tutto sia concluso nel modo migliore? Sicuramente sì, purtroppo ci sono voluti molti anni, ma questo fa parte della ridondanza della burocrazia nel nostro paese. Finalmente oggi vediamo che tutto è ricostruito, abbiamo questa diga che è tornata nel pieno delle sue funzioni.